Il treno regionale 7070, di Trenitalia, proveniente da Sulmona, è diretto all'Aquila, delle ore 11.12, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Paganica. Il treno regionale 7075, di Trenitalia, proveniente dall'Aquila, è diretto a Sulmona, delle ore 14.51, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Demetrio de Vestini, Fagnano Campana, Molina Castelvecchio Subacqueo, Raiano, Prattola Peligna Superiore. Il treno regionale 7076, di Trenitalia, proveniente da Sulmona, è diretto all'Aquila, delle ore 17.20, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 7018, di Trenitalia, proveniente da Sulmona, è diretto all'Aquila, delle ore 22.12, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Paganica. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.